Buongiorno, seduto alla terza condizione permanente della tutta circostruzione, quello a 2 settembre 2020, ore 8 e 35. Buongiorno, seduto alla terza buongiorno Buongiorno Devo prendere la presenza? Ci sono solo io Facciamo l'appello? Sì Autodonna Lucido Stabile Presente Aspettiamo qualche minuto se qualche consigliere Entra Si presenta Buongiorno 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 Chi Grazie. 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 Sono le 8.40, si costate la mancanza e il numero legale, per cui si rimanda la seduta di un'ora. Ci vediamo alle 9.40. S'accordo, arrivederci. A più tardi, arrivederci.